Luca, siamo ormai in prossimità dell'estate, dobbiamo dire qual è la situazione a Crotone per i lì di balneari, visto che i cittadini comunque stanno già andando al mare? Allora, noi veniamo da tutta una serie di incontri relativi alle problematiche dovute al Covid. Al momento siamo, per quanto riguarda il punto di vista delle linee guida, siamo arrivati a un punto di definitivo, di concertazione e quindi possiamo offrire ai nostri clienti una spiaggia sicura, sia dal punto di vista delle distanze che dal punto di vista delle predisposizioni dei servizi bar, ristorante e quant'altro. Quindi in ogni caso siamo, pur essendo una città che non ha più questi problemi del Covid, la sicurezza per i bagnanti, per i cittadini rimarrà? Sì, assolutamente. Questo è il primo punto che abbiamo messo all'ordine del giorno e le dico anche che abbiamo avuto proprio in questi giorni un incontro molto produttivo col Comune di Crotone e l'Ufficio Attività Produttive. Al fine di estendere questa sicurezza anche alle spiagge libere, che insomma non possono essere lasciate a se stesse, ma oggi più che mai devono garantire per le persone che non vogliono venire nei nostri stabilimenti, ma vogliono trascorrere una giornata di mare in città, la devono fare in assoluta sicurezza. C'è stato da parte del Comune l'impegno per cercare di risolvere queste problematiche, intanto se possibile con il ripristino delle torrette di salvataggio e poi eventualmente allargare tramite associazioni o quant'altro il discorso di vigilanza. Però un punto di partenza se dovessero mettere queste torrette ce le abbiamo. Per quanto riguarda la parte economica, anche voi siete in grande difficoltà? Sì, la difficoltà c'è, perché si è proceduto a livello governativo con tante misure, che però sono piccole misure. Partendo dall'Imu, che ti consente solo la rata di giugno, diciamo che è stata stralciata, però solo una prima parte e non tutto. Da apprezzare l'apertura verso l'IRAP e l'IVA, però il discorso è un altro. Bisognava fare delle misure che incidessero principalmente sul costo del lavoro, ma in maniera seria. Perché c'è stata fatta dalla Regione, ad esempio, la proposta che su tre dipendenti uno veniva esentato dall'aspetto contributivo. Quindi si poteva, eventualmente, per quanto riguarda la bagnazione, fare un discorso su tutti i dipendenti. Su dieci, ad esempio, significava risparmiare tra luglio e agosto circa dieci mila euro. Poteva essere una misura più milata e ad hoc per quanto riguarda noi. Per quanto riguarda i costi, ad esempio, delle cabine, cosa è cambiato qualcosa? Vi siete dati dei limiti per i costi? Allora, per quanto riguarda questo, diciamo che la totalità degli associati SID e dei lidi di cortone hanno deciso di non aumentare i prezzi per quanto riguarda sia gli ombrelloni che le cabine. È stata una mia battaglia perché mai più che ora bisogna essere vicino alla città. La gente, sotto tutti i punti di vista, da quelli psicologici a quelli economici, ne è uscita traumatizzata. Quindi è vero che ci saranno dei costi aggiuntivi, ma dovranno essere a carico di noi operatori. Non possiamo far pagare il prezzo di politiche magari non totalmente adeguate ai nostri cittadini.